Tre frammenti di luce illumineranno la rocca di Spoleto, simbolo di tutti gli edifici colpiti dal sisma, ma anche un auspicio di rinascita. La collega di Regnus24, Emanuela Bonchino, ha intervistato l'autore di questa opera. Sulla rocca albornoziana, uno degli edifici simbolo di Spoleto, è visibile una crepa di luce. Vuole simboleggiare tutti quanti gli edifici storici colpiti, devastati dal terremoto. La rocca, invece, è rimasta intatta. A realizzare questa installazione luminosa, l'artista Sebastiano Romano, che cosa significa? Significa un segno estremamente positivo, cioè sono tre schegge di luce, tre spazi diversi, che saranno molto visibili da sotto, quindi sono realizzati per questo. Sono stati realizzati con delle macchine, con dei sagomatori, che ci permettono di disegnare proprio la luce e quindi di creare questi frammenti di luce che si intersecano fra di loro, creando un'unica scheggia. Una luce che parte, che è dentro la pietra della rocca, ma che diventerà il simbolo della rinascita. La crepa luminosa sarà visibile fino al 10 gennaio e si potrà vedere con uno spettacolo molto emozionante dal basso, da Spoleto.